Dottoressa, lei ha proprio davanti a sé due cimeli, vorrei che ci spiegasse perché sono così importanti. Sono importanti perché sono due lettere autografe di pugno di due dei grandi protagonisti del risorgimento italiano, sono Giuseppe Mazzini e Massimo D'Azeglio. Possiamo cominciare subito mostrando la piccola e fragile lettera a firma Giuseppe Mazzini. Come potrete vedere questa lettera presenta una particolarità, sono questi segni neri che sono stati apposti con ogni probabilità in maniera volontaria per evitare la censura, non sono stati apposti dalla censura perché altrimenti avremmo avuto anche i timbri relativi al passaggio nelle mani della censura, quindi cosa è successo? Probabilmente questa lettera è viaggiata di mano in mano in maniera clandestina e a titolo precauzionale sono già stati coperti nomi, indirizzi e luoghi. Non dimentichiamo che Mazzini ha passato la maggior parte della sua vita in esilio e a fuggire dalle condanne anche a morte che pendevano sul suo capo, quindi era indispensabile mantenere la segretezza. Ecco qui vediamo la lettera al destinatario che ovviamente è coperto e in questa lettera si scambiano delle informazioni, quindi c'è questa persona che è stata avvertita e che dichiara è stata ingannata da Guerrazi, un altro personaggio importante e qui si dà un appuntamento, io ho scritto perché faccia riportare, i soliti argomenti verranno poi in tempo, quindi si tratta di uno scambio di informazioni e di una consegna misteriosa che deve essere fatta. Mazzini in questa lettera ovviamente resta molto vago proprio per il timore della censura e della sicurezza di chi portava questa lettera, ma la firma è indubbiamente la sua, Mazzini si firmava regolarmente con gius puntato, quindi lo possiamo vedere. Dalla clandestinità di Giuseppe Mazzini passiamo a un altro grande protagonista del Risorgimento che è Massimo D'Azeglio, che invece è stato sempre in primo piano e presente a livello politico, questa lettera è datata a Pisa 8 febbraio 1865 e D'Azeglio scrive al suo caro amico Marchese Carlo Stefanoni e in questa lettera si sfoga in maniera anche forte e personale con il suo amico 1865, quindi l'Italia ha già completato il suo processo di unità e D'Azeglio sfoga tutto il suo risentimento verso i maneggi politici, verso una situazione che lui vedeva così diversa da quella degli ideali risorgimentali. Ecco, inizia proprio sottolineando l'ingratitudine degli italiani e mi dice io non voglio cercare se i nostri atti meritassero gratitudine, però mi sembra certo che non meritavamo di essere posti fuori dal diritto comune, quindi in realtà la gratitudine ad Azzeglio l'avrebbe voluta. Ecco, poi vediamo che si parla di una sentenza e di un misterioso processo a carico e qui dice proprio testualmente, ora il profeta potrà dire come il creatore alla fine del sesto giorno e quindi vorrebbe una sorta di riposo dopo i moti, dopo le fatiche, dopo l'unità invece si trova ancora ad aver combattere contro certi personaggi e dice il quadro generale, continua sempre caricando i toni, non ha una tinta che non sia del più bel roseo. La monarchia spiantata, l'Italia è come cani e gatti, la finanza rovinata, la confusione dei dicasteri, il malcontento generale. Ecco, D'Azzeglio, deluso, prossimo alla morte, muore nel 1866, non disconosce il processo di unità ma sicuramente ha una forte delusione verso chi l'ha portato avanti negli anni successivi. Una visione sicuramente inedita di un grande personaggio e protagonista dell'unità d'Italia.